Beh, I'm a trans and a two Ok, ciao a tutti ragazzi, sono il sorriso della notte e sì, che palla, questa serie di geniati Ma noterete qualcosa di assurdo nel video Qualcosa, no, 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 faccio vedere lui perché si fa qualcosa di strabiliante E ora lo andremo a vedere, ho una canzone di soffondo Ebbene, ci rimarrà molto male Ok, sì, ora la state sentendo, avete capito di chi sto parlando Ok, ragazzi, posso importare i meme, evviva Quindi porterò per te qui sul canale e vi farò ridere E così poi vi vi schierate E il mio momento è più scherittore Amico, amico, fratello No, non sapevo Aspetta 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 Blaster Blaster, vai Glaster Blaster Lo sole Suno Si Ha Taker A Aspetta chieretta nella forma sensitiva Sar, sensitiva buSI ら sul capello come si vede la labbra è molto grande allora invece per questo secondo round ragazzi è stato troppo bello quando si è visto Benny morire con una musica troppo send è un ripsalto sono freezer io è un ghiacciolo per caso no perché ma mi chiedo finché non sono morto io mi chiamo freezer perché la bandagna ha scelto proprio di mettermi nella battaglia contro corpo tra la lava che c'entra sono fatto di ghiaccio sono freezer aspetta ma che c'entra era una tattica per perdere tempo nooo 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 no Nooo! Vrei una sassata Aaaaaaa! Uccidetelo, è un paladrino, è un clasp! questo è la vendetta Dello scorso video ignorante Ti perdono Ok ti perdono Ma anche no Oh no Trigger Aiuto Faccio ma Aspetta Stai fermo Stai fermo un attimo così diventi Molto più nero Ecco adesso Oh no Ma perchè fai Vabbè Oh Ora sono un nero Più la birra ora sono la birra negroni si e ora staglife aspetta nella prossima clip bene in questo video di clip ignoranti avremo un esemplare di Sam con qualche meme in più bene noi ora vi presentiamo il nuovo esemplare di Sam si ma tu neanche trovi la lingua ora es labora studi ora ara 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 stai a piacere preparare una la sagna con il e aí ora ara 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 disgregazione ho detto disgregazione sei troppo stupido sono l'essere perfetto ma non per ora non è questo se ho detto quanto fa 1 più 1 fa 2 sei una capra ignorante fa 2 perchè non ti posso fare i proiettili perchè non ti posso fare i proiettili perchè è giapponese Dimmi perché non ti posso fare i proiettili Perché E quindi Lupin si Perché non posso fare i proiettili Perché fai Perché fai arrabbiare Lupin Ah 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 Più poderoso Io c'ho Ah Non ce no Ah No No Basta Aspetta Posso rinceneralarmi o faccio il vento Ma anche no Ti può Guarda lo dico Posso rinceneralarmi o faccio il vento Ah ok 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 Ma anche no Nell'attesa che c'è No io mi devo fare con la meme Nell'attesa di Vorrei farmi Vorrei farmi tipo Prendi questo Ah io comunque Ti prego Ti prego Ti devo finire No Io invece Io invece anche Ti poto Non mi prego Ah 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 Prendi questo Ma anche no Aspetta ti voglio farvi vedere una cosa Aspetta Aspetta Stai Siamo a terra Guarda Guarda Aspetta Ah 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 Ahhh Mora Basta Mi stai triggerando Ah Il che Ti prego Ti prego Ma ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Oddio spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video